La mia famiglia e di squartarmi No, non ho bisogno adesso perché non so neanche se viene o non viene, non voglio mobilitarvi a casa Ok, perfetto, allora sì, mi passi le forze dell'ordine Certo Milano? In che senso? Milano, sì No, non è che... Allora, le dico un attimo l'indirizzo Belardi Belardi il cognome Francesco Paolo No, io in questo momento sono qui Sì, grazie Mh Finito la sigla Salve, buonasera, io ho ricevuto all'incirca una mezz'oretta fa delle minacce da un personaggio pubblico, un cantante trap Io ho un canale di gossip su internet per un video di gossip caricato e ho delle registrazioni schermo di vocali che lui ha cancellato, cioè tutta quanta la chat comunque Dove lui dice che mi prende, mi viene a squartare e viene a dare fuoco a me e la mia famiglia e cose simili Questa conversazione è avvenuta tramite Instagram e ho fatto una registrazione schermo con tutto quanto No, bene, si porti in un commissario alla stazione dei carabinieri e faccio vedere i colleghi No, io non posso uscire, io sono positivo al covid, è quello il problema, non posso inviarglielo via mail Sì, ma è una cosa urgente Cioè ho ricevuto minacce che, recenti di adesso, cioè nel vocale dice se vengo stasera, ti vengo a prendere domani Sì, sì, sì Segnalato, deve fare denuncia, deve portarti lei a sforgere denuncia, ha tre mesi di tempo Ok, va bene, va bene, perfetto Se ci dovessero essere persone che si avvicinano alla sua abitazione, sospetti, ci contatti immediatamente e facciamo un passaggio con la volante Ok, perfetto, grazie mille, grazie, ciao, ciao